Hello! Un video al mese come avevo detto Eh si erano due e tre Un video al mese come avevo detto Quindi dai preferiti di gennaio passiamo ai preferiti di febbraio Perché febbraio è finito Ho stesso il blush con la cazzuola Posso vedere le mie guance da qua Ma chi se ne frega Allora prima forse dovrei fare Una piccola Un piccolo aggiornamento sulla mia vita Perché il mese scorso Stavo iniziando il nuovo lavoro Questo nuovo mese Sarò disoccupata di nuovo Ma adesso magari ve lo spiego durante La risposta delle domande Oggi sto anche indossando Un nuovo rossetto Che pubblicai un anno fa su un video haul Ma non l'avevo mai utilizzato Fino ad ora Ed è il Retromat All Fired Up Della MAC Comunque mi sembra stupendo Mi sta forse Rinzecchendo Rinzecchendo Le Lavra Ma chi se ne frega Di nuovo Comunque io non Non so parlare più l'italiano Ve l'ho già detto nello scorso video Che me l'aveva già fatto notare una mia amica Però in realtà Io ho sempre avuto problemi di balbuzie Non Esagerati Però Quella cosa che mi fermo Che non so che parola usare O che mi impappino Quando parlo Mi rendo conto che ce l'ho soprattutto Quando sono nervosa Quando sto litigando con qualcuno Per cui perdo anche di credibilità Su quello che devo dire E in generale Quindi mi rendo conto che mi fermo spesso Perché non so Cosa dire Come dirlo E non mi viene la parola Esatta Comunque Bando alle ciance Iniziamo Prima domanda Canzone del mese Allora Canzone del mese Una canzone stra vecchia Che mi piaceva Mi era sempre piaciuta Ma non ne sapevo il nome Il titolo Né niente Quando la sentivo Era simpatica Ed è Sexual Healing Di Marvin Gaye Gay Gay Quello là E questa canzone L'altro giorno È capitato un video Con un Con un carlino Che mangiava un cavolfiore Mi pare un broccolo E c'era come sottofondo Questa canzone E il mio tipo Ha detto No no aspetta Mettila Così l'ho cercata L'ho L'ho ascoltata E da quel giorno L'ho ascoltata Tipo tutti i giorni Perché mi piace il testo E ora mi ricorda lui Che mi disse Che era la canzone preferita Di tua mamma E quando era piccolo L'ascoltava E mi diceva Sì ma mia mamma L'ascoltava In maniera Spirituale Perché in realtà È una canzone Che parla Di senso E io certo Comunque quello Canzone del mese Quindi Marvin Gaye Sexual Healing E poi ce n'è un'altra Che è sempre vecchia Non vecchia Vecchia nel senso Di qualche anno Ed è di Non mi ricordo Come si chiama Oz Genesis O qualcosa del genere Si chiama I'm in love with Coco Ed è una grezzata Di quelle tipo Reppuse Però che parla di droga Cocaina E anche il video È una grezzata Però mi sono fissata E l'ascolto spesso Scherzando anche Con la mia conquilina Con Viviana Comunque vi posterò Il link Sotto Come al solito Seconda domanda Film e telefilm del mese Nessuno Perché io non guardo film Non guardo telefilm Tre Profumo del mese Oddio Forse io devo cambiare Queste domande Perché già mi sono resa conto Che di mese in mese Non cambia niente Quindi se questo Se questo è l'unico video Che io devo fare Non ha senso Perché non posso Manco rispondere Alle domande Forse non sono stata Molto Previdente Girando questo video Oggi Con Non dico con fretta Cioè sto uscendo Però non ho fretta Però magari avrei dovuto Cambiare le domande Ma si vedrà Il prossimo mese Questo Quindi Basta Accessorio del mese Accessorio del mese Ho comprato Ho comprato qualcosa Che ora vi faccio vedere Ma aspettate un attimo Perché di nuovo Non sono stata Previdente Eccomi qui Ho comprato Un altro paio Di Dr. Martens Che sono queste Sempre per i miei piedi A barca Queste addirittura Sono 42 Perché io ho il 41 Per i miei piedi A barca Ho comprato queste Ed erano queste In super saldo Perché erano in saldo In più c'era un altro saldo Quindi li ho pagate Poco Relativamente poco Nel senso Per essere Dr. Martens Li ho pagate Decentemente Cioè 44 pound Accessorio del mese Prodotto beauty del mese Sto facendo Una sorta di pulizia Del mio make up Provando a venderlo su ebay Ma nessuno Mi si caga di striscio Quindi Sempre per la storia Sempre per la storia Che vi devo fare vedere Prima o poi In un video haul Tutti i miei nuovi acquisti Vi mostro brevemente In anteprima Gli acquisti Che ho fatto Ho comprato qualcosa Ma soprattutto Vado fiera Di Questo Color Tattoo 24 ore Di Maybelline In Nella shade Metallic Metallic Pomegranate Che l'ho dovuto comprare Questo su Amazon Anche se in realtà Sto provando a boicottare Amazon Ma è una storia lunga Di cui Un giorno forse vi parlerò Comunque Tra i vari acquisti Ho comprato questo E Ce l'ho anche in altre due Colorazioni Che vi farò vedere Comunque Prodotto beauty del mese Esatto Cibo del mese C'erano gli Oreo In offerta Però quelli normali Che sono anche vegani E li ho comprati A 54 centesimi Cibo del mese Ah un altro cibo del mese Ma già dal mese scorso Questo Chi mi conosce Sa che io Non mangio Di solito pizza Ma adesso Mi sono riscoperta Un amante della pizza Io Veramente Anni ed anni E tuttora Io Cioè io non mi definisco Una Un amante della pizza Anche se la sto mangiando Più spesso Perché comunque Per me la pizza È un alimento Cioè sono tante cose Tutte mischiate Che non mi interessano Più di tanto Onestamente Però Ho scoperto questa pizzeria Famosa di cui parlavano tutti Qui a Londra Che è una catena E si chiama Franco Manca E io dicevo No ma che schifo è Bla 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 Ma poi ci sono andata E ci sono stata Già tipo Quattro volte In un mese Praticamente Tutte le volte In cui vado a mangiare fuori Sto andando lì Perché la pizza È veramente buona Prezzi Contenuti E E te la fanno davanti Nel senso Cioè All'italiana E quindi Questa pizza È buonissima E costa meno Della pizzeria D'asporto Che io ho dietro casa Quindi Mi sembra Buono Cioè tu vai a mangiare In centro E mangi una cosa buona È fresca È fatta bene E paghi Sette pound Quindi mi sembra Un prezzo Veramente decente Per un cibo Veramente decente Smalto del mese Ho indossato lo smalto Solamente Ieri Per festeggiare La mia Nuova disoccupazione E quindi Ho rimesso i piercing Ho messo lo smalto Perché così Sarò Bella e curata A casa E questo qua È uno smalto Che volevo anche buttare Ma che poi Ho deciso di tenere E aspettate Che lo cerco È più vecchio di me Di quando si usava Il color Tiffany Di H&M Che neanche venderanno più E si chiama Bella's Choice Forse lo dovrei Shaker Comunque io sono Sempre più fiera Della mia stanza Soprattutto Quando la vedo Che io giro i video E c'è tutto Questo sfondo Magnifico E sono ancora Intenzionata A farvi il drum tour Da un anno Non lo farò mai Cioè sì Prima o poi Cosa più bella Del mese Eventi Cosa più bella Del mese Non credo Di avere fatto Niente di Particolare Quindi Non c'è stato Niente di bello Cosa più brutta Del mese Essere licenziata Dunque Non sono stata Licenziata Ad onore del vero Devo dire Che c'è un contratto Proibitorio Comunque c'è un contratto Iniziale Quando tu inizi Un nuovo lavoro Che dura di solito Un mese O tre mesi E poi si trasforma In contratto Direttamente A tempo indeterminato Questo contratto Di prova Nella compagnia Dove ho lavorato Questo mese Era di un mese E allo scadere Mi ha detto Che non me lo rinnovavano Perché stavano Lei mi ha detto La scusa Ora io Non dovrei dirlo Perché è una cosa Politicamente scorretta E potrebbero censurarmi Il video Comunque Non ho una grandissima Simpatia Per la fascia Est-europea Diciamo così Tutti i miei colleghi Erano Slovacche Sottolineo Vacche E lituane Insomma Devo dire Di non essere Stata molto amichevole Con loro Ma neanche rude Mentre loro Soprattutto un paio Sono state molto Rudi con me E si parla di ragazzine Sui vent'anni Quindi onestamente Io ho trent'anni Non ne ho trenta Va bene Io ho ventotto anni Per cui a me Questa cosa Di questi lavori Dove tu sei una macchina Eccetera Ne ho veramente Abbastanza Comunque Soprattutto Lavorare con gente Di vent'anni Non penso Di potercela fare Quindi loro L'hanno capito Ed effettivamente Anche il lavoro Non mi piaceva Lavoravo in una compagnia All'interno Della food hall Di Selfridges Inoltre Selfridges Ha un tipo di clientela Che mi fa Vomitare Perché io ero abituata A lavorare A St. Pancras Station In un coffee shop Busy Pieno di turisti Ma anche pieno di Pendolari Nonostante fosse Una stazione internazionale Devo dire che La maggior parte Dei clienti Lì erano Inglesi Persone con cui Ho fatto amicizia Persone simpatiche Amichevoli Persone che lavoravano All'interno Della stazione stessa Comunque gente Simpatica Da Selfridges Ovviamente Il tipo di clientela Chi è? Inglesi Che lavorano Da Selfridges Sfranieri Che lavorano Da Selfridges Tra cui un paio di persone Che conosco Più di un paio di persone Che conosco E gente Che si crede Figa Perché lavora Da Selfridges E poi vendono Cioccolatini Uno in particolare Comunque Lui fighissimo Arrivava Elegantone Sciantoso E poi l'ho visto Che vendeva cioccolatini Quindi ho detto Va bene Forse è meglio Se io mi dissocio E comunque Lì la clientela Era nettamente diversa Insomma Il posto non mi piaceva Io Nonostante Sappia di avere Un buon Customer Service Credo che adesso Proverò Ad orientarmi Su qualcosa di diverso Perché veramente Ne ho abbastanza Della gente E questi lavori A contatto col pubblico Che spende soldi Mi ha fatto venire L'odio per l'umanità Che già avevo E quindi Onestamente Penso che sia meglio Cercare Qualche altra cosa E spero di trovarla Comunque Perché Non lo so Comunque In tutto ciò Io lunedì Andrò al Job Center Chiederò loro Di aiutarmi Per la ricerca Di un nuovo lavoro E speriamo Di trovare qualcosa Questo sfogo Mi ci voleva Grazie per aver ascoltato Se l'avete fatto Comunque sì Evento brutto del mese Che per me però Da un certo punto di vista È bello Devo dire Perché Io ne ho abbastanza Di lavorare Vorrei Essere ricca E quindi Evento brutto del mese Sono di nuovo Senza lavoro E ho iniziato a fare Ah evento bello del mese Anche se non è bello Forse Perché già mi sta annoiando E aver iniziato Il volontariato In un charity shop Non so se ve l'avevo detto Lo scorso mese Ho iniziato il volontariato In un charity shop Che si occupa di Cioè che è un Oddio Un charity shop Comunque per la ricerca Per debellare il cancro E quindi sto facendo La volontaria là Che mi serve anche Come esperienza Comunque nella vendita Perché è un negozio E basta Foto del mese Non avevo pensato A questa cosa Di nuovo Foto del mese Aspettate che la cerco Sempre vedendo Il mio profilo Instagram E devo dire Che quelle che ho postato Sono Julien Lapin Ecco Sempre che non si vedranno Ho postato Proprio due giorni fa Credo What? Questa Che è una Installazione Che c'è nel negozio Di antropologi E questa accanto Che è un Un gran murales Che c'è Che c'è a Bricklane E che poi ho visto Che lo stesso L'ha fotografato Io ovviamente Ho i miei pochi like Pochi Relativamente Normali like Likes E poi ho visto Che lo stesso L'ha postato Semmy Di The Beauty Crash E gli ha ricevuto Tipo miliardi di like Quindi ovviamente In base Almeno so Di avere fotografato Qualcosa di carino Ed artistico E invece L'installazione Che c'era Da antropologi Mi è piaciuta Particolarmente Perché soprattutto In foto Sembra secondo me Un disegno Invece erano Pennelli veri Cioè pennelli veri In rilievo Dei veri pennelli Comunque Io penso Di averne abbastanza Comunque Sono in una fase Veramente negativa Della mia vita E sto parlando Con voi Raccontandovi Le mie Pensiere Raccontandovi Le mie pensiere Più profonde Quindi adesso Io A proposito Di andare fuori E mangiare pizza Sto andando A mangiare una pizza Con Alessia Che non guarda I miei video Qualora dovesse guardarli Ciao E Vi saluto E ci vediamo Il mese prossimo Bye Bye Bye